Le unioni civili continuano a far discutere a Padova. A sollevare la nuova problematica è il deputato Alessandro Zan, che ha annunciato su Facebook un'interrogazione parlamentare e un esposto in prefettura contro il comune di Padova. Reo ha suo dire di celebrare le cosiddette nozze arcobaleno solo il mercoledì mattina, un modo quindi discriminatorio verso le coppie, costretto a rinunciare alla celebrazione e ai festeggiamenti con le proprie famiglie e con gli amici. Da Palazzo Moroni non manca la replica, tutto è stato fatto secondo la legge. Zan che fa questa difesa d'oltranza senza neanche conoscere le cose sulla decisione che hanno preso gli uffici, cioè il dirigente responsabile per quanto riguarda le unioni civili che verranno effettuate il mercoledì. A Bologna mi risulta le facciano il martedì. Il nuovo regolamento comunale sui matrimoni civili approvato lo scorso 8 marzo fa riferimento ai matrimoni costituzionalmente intesi, ovvero alle unioni tra uomo e donna. Questi vengono celebrati gratuitamente il sabato mattina in comune e il giovedì mattina presso la Sala delle Cerimonie in Piazza dei Signori. Nelle stesse sale possono anche essere celebrati i matrimoni il sabato pomeriggio o la domenica, previo al versamento di ogni importo tra i 500 e i 600 euro per i residenti che diventa 700-800 per i non residenti. Dal mese di ottobre sarà possibile sposarsi civilmente il sabato pomeriggio e la domenica mattina anche in altre sale dislocate sia in sedi istituzionali che di prestigio, con tariffe appropriate a copertura dei costi di utilizzo. Dal punto di vista legale, le unioni civili, ovvero quelle tra maggiorelli dello stesso sesso, sono da considerarsi dichiarazioni di carattere amministrativo e come tali vanno fatte dal lunedì al venerdì, così come avviene in tutti i comuni italiani, in base alle decisioni dei dirigenti preposti a seconda della disponibilità del personale. Insomma rispondo a Chiazzan che mi ha chiamato il boss del quartierino, che ovviamente poi io querelerò perché non è che si può permettere uno e solamente perché ha l'immunità parlamentare e quindi risponderà nelle adeguate sedi delle offese anche che fa ogni volta. Comunque lui ha piesso spinto ogni volta che si parla di unioni civili, ogni volta che si parla di gay, solo per una difesa di lobby perché come è noto io so tutt'altro che omofobo, cioè non mi interessa assolutamente nulla, ma si scaglia contro il sindaco di Padova su qualsiasi cosa che io dico. è dunque ragazzo di Padova